La Gioconda è il quadro probabilmente di Leonardo da Vinci dipinto intorno al 1503-1506 e Leonardo da Vinci per diversi anni ha dipinto sempre più questo quadro ripassandoci sopra per esercizi personali e anche per perfezionare sempre più questo quadro. Probabilmente è raffigurata Lisa Gherardini oppure conosciuta come Mona Lisa. Mona è il diminutivo di Madonna e Lisa è il nome proprio della persona raffigurata. Lisa Gherardini era la moglie del nobile e ricco mercante Francesco del Giocondo e la quale relazione matrimoniale tra questo ricco mercante e Lisa Gherardini ha portato così il nome e il titolo del quadro La Gioconda.